Dieci mesi fa era stato sorpreso dal personale di vigilanza, mentre assieme ad un complice tentava di rubare 500 euro di alimentari dagli scaffali di un supermercato di San Martino di Lupari. Le indagini dei carabinieri non si sono mai fermate, fino ad arrivare ad un trentenne di origine romena per il quale è scattata la denuncia per furto, ma le forze dell'ordine sono al lavoro anche per rintracciare il complice.